Il progetto 5G Smart School fa parte del programma più ampio di Qualcomm Wireless Reach, un programma globale che mira a dimostrare come le tecnologie innovative, in particolare le tecnologie 5G wireless, possono migliorare la vita, il benessere sociale ed economico delle comunità. In questo senso noi abbiamo sviluppato già a livello globale più di 130 progetti in 50 paesi che hanno avuto un beneficio su circa 26 milioni di persone e oggi in Italia noi abbiamo implementato il progetto cosiddetto 5G Smart School con i nostri partner che sono Team, WeSchool ed Asher. Cosa andiamo a fare? Andiamo a dimostrare come dei PC connessi piuttosto che altri device connessi in scuole che sono state poi coperte con il 5G Fixer Wireless Access da Team, possono avere una connettività a larga banda e consentire l'implementazione di didattiche e di metodologie informative e innovative, ovvero dove gli studenti con i laptop connessi in 5G con qualche Snapdragon possono interagire tra di loro all'interno delle scuole e anche al di fuori delle scuole stesse oppure anche tra più scuole che partecipano al progetto. Al momento hanno aderito già 8 istituti di cui 3 già sono stati attivati, parliamo di circa 1000 studenti e 100 insegnanti coinvolti che nel corso già dell'anno scolastico, nel prossimo anno scolastico saranno pienamente raggiunti con gli obiettivi di 8 scuole attivate. Grazie.